Le cose si stanno muovendo, si va avanti e si va avanti anche bene, anche perché abbiamo il costante, sempre presente Legnini che ci segue, segue tutto, tutto il territorio disastrato del Terremoto. Il Legnini è un tocca sano, devo dire che da Vasco e Rani un bel salto di qualità che se avesse proseguito il Rani, poi i Legnini ci troveremmo molto meglio, però adesso ringraziando Dio abbiamo Legnini che è una grande apprezzione. Qualche passetto è stato fatto, però ancora c'è da fare, c'è da lavorare, non solo con la costruzione delle case, ma anche con la costruzione degli animi e delle persone che sono demoralizzati e non vogliono vedere più nessuno. La speranza non deve mai mancare, se manca la speranza è finita, quindi la speranza deve sempre rimanere, guidarci e esserci di guida. Il commissario Legnini ha dato una forte accelerazione alla ricostruzione, quindi mi auguro che da questo momento in poi si cerchi di recuperare il tempo perduto, perché cinque anni sinceramente sono tanti. Naturalmente queste occasioni amplificano i discorsi e le dichiarazioni di intenti, poi dopo questi due giorni bisogna poi vedere se effettivamente gli intenti diventano realtà, è quello che si aspettano tutti. Noi dobbiamo essere fiduciosi perché la natura umana deve essere fiduciosa nel futuro. Qualcosa è cambiato negli ultimi due anni, prima no, nei primi tre anni si è fatto quasi niente. Adesso si comincia a muovere per il fatto che sono riusciti insieme con Legnini, col commissario, a modificare alcune leggi che bloccavano un po' la ricostruzione, perché ci sono passato anch'io, quindi si sta velocizzando un po' tutto. La speranza c'è, certo che per le persone che hanno una certa età sarà dura, perché non è che si può ricostruire un paese così in qualche anno, anche perché il centro sarà più difficile, perché tenteranno di rimettere le cose più o meno come stavano prima. Grazie a tutti.